Al fisco diceva di guadagnare 650 euro al mese, ma negli anni aveva accumulato un patrimonio di oltre un milione di euro. È un'evasione fiscale a 6 zeri, quella scoperta dai carabinieri della compagnia di Andria, che hanno eseguito un provvedimento di confisca dei beni, la cosiddetta confisca di prevenzione, prevista dalla normativa antimafia, nei confronti di un 48enne del luogo sorvegliato speciale, con precedenti penali in materia di stupefacenti. L'uomo era tenuto d'occhio già da qualche anno dai militari, nell'ambito di un'indagine coordinata dal Tribunale di Trani, che aveva portato al sequestro, nel gennaio 2015, dei suoi beni mobili ed immobili, senza facoltà d'uso, intestati in parte anche alla moglie quarantenne dal figlio di 23 anni. L'iter processuale ha in seguito confermato l'ipotesi degli investigatori, arrivando all'attuale ordinanza di confisca, che riguarda un appartamento di lusso, con annesso posto auto, due autovetture, cinque motocicli ed un'intera attività commerciale di articoli per la casa, e poi due conti correnti bancari e diverse quote societarie. All'interno della sua abitazione i carabinieri hanno trovato decine di quadri di valore, arazzi, cantinette per vini pregiati e persino una sala da bar con tanto di bancone e spillatore per le birre. Un patrimonio stimato intorno al milione di euro, a fronte di un reddito dichiarato vicino alla soglia di povertà, 650 euro mensili, comprensivi di indennità di disoccupazione e degli assegni familiari ricevuti dal comune.